Il calcio è veramente illogico. Poi è una cosa, adesso Cup Minus ha sbagliato un gol a porta vuoto, mio Dio. L'Atalanta avrebbe dovuto fare perlomeno 7-8 golle per il numero di opportunità create. E la partita è rimasta in bilico per un rigore truffa, diciamolo con sincerità. Cioè, quello è Abram che allarga la gamba. Sediamo anche questi rigori, chiudiamo baracca e burattì. Protagonista assoluto, Charles de Kettler. Bollato, un pollo, un pippone, un mediocre, una truffa. Mandiamolo via, 35 milioni d'euro, Maldini non sa leggere i giocatori. Oggi due gol, assis, numeri, dribbling, velocità, fantasia. Che cosa vuoi dire? L'ennesimo capolavoro di Gasperini che ha rigenerato un giocatore che sembrava avulso. La Roma, orripilante. Va bene, va bene la batosta psicologica di perdere a Leverkusen a un passo dall'incredibile impresa. Ok la stanchezza, ma anche l'Atalanta era stanta. Possiamo dire che l'Atalanta aveva più elementi per gestire le due competizioni. È vero, ma è stata una squadra al tappeto. Svilar, i pali, le opportunità sprecate per troppo amore in quello che facevano. Si sono specchiati perché hanno cercato di far gol entrando con la palla nella porta, preferendo situazioni individuali invece che l'altruismo in certi tratti. Eppure l'Atalanta la porta a casa. Un 2-1 che non racconta per niente quello che è accaduto oggi, ma un risultato fondamentale. Perché la Roma deve mettersi lì davanti allo schermo e ti fare Atalanta. Ti fare Atalanta e sperare che salvi una stagione che da straordinaria rimonta di De Rossi è arrivata. Nella Roma poco da segnalare oggettivamente. Quella sponda di tacco di Lukaku che per 95 minuti oggettivamente ha fatto poco o nulla e ha avuto l'opportunità sul sinistro tirandolo in bocca a carne secca. Ma la difesa ha ballato costantemente. Mancini è stato messo in mezzo e non ci ha mai capito un bel niente. Non dica, non dica, men che meno. L'Atalanta è stata bellissima quando ha preso il gol e è tornata sul paura di un passato. Tu dici, io ho dominato, dovevo stare 6-7 al 0. Alla fine la partita ha rischiato anche di pareggiarla alla Roma e sarebbe stata la più grande truffa calcistica della storia. Comunque, Gasperini gioca in maniera spettacolare. La Roma è arrivata spenta nel momento decisivo. Atalanta 2, Roma 1.